L'idea è nata in AFTF, Mifu, di cui sono presidente, è stato molto felice di consponsorizzare, di organizzare con AFTF. L'idea è nata in 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 AFTF. È felicissimo per me soprattutto e poi anche per il Made in Italy perché comunque per quanto mi riguarda è stato un primo passo mosso verso un possibile futuro importante per me. L'idea è nata in AFTF. 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 L'idea è nata in AFTF.